Accesso per tutti i popoli alla ricerca scientifica e dai benefici conseguenti, lo ha chiesto il Papa, parlando ai partecipanti al corso promosso dalla Specola Vaticana che ha raccolto studiosi da 23 paesi. La Scuola di Astrofisica della Specola Vaticana diventa così un luogo, ha detto il Papa, dove i giovani del mondo dialogano, collaborano e si aiutano a vicenda nella ricerca della verità che si concretizza in questo caso nello studio delle galassie. Questa iniziativa semplice e concreta mostra come le scienze possano essere uno strumento adatto ed efficace per promuovere la pace e la giustizia. Ed anche la Chiesa è impegnata nel dialogo con le scienze, a partire dalla luce offerta dalla fede, perché convinta che la fede può allargare le prospettive della ragione arricchendola.